L'ennesima tragedia registrata a lungo la SP8 del Salinello nel Terramano ha fatto nuovamente riaccendere i riflettori su quella strada definita da molti pericolosa. Da tempo i residenti chiedono un intervento definitivo e urgente per la messa in sicurezza della provinciale per garantire l'incolumità di tutti gli automobilisti che quotidianamente percorrono la bonifica del Salinello. Una delicata vicenda sulla quale hanno preso posizione i consiglieri regionali Dino Pepe e Sandro Mariani che chiedono un intervento immediato anche alla regione. Un tratto stradale troppo pericoloso, poi il crollo del ponte in una strada collegata all'SP8, tutto quello che è accaduto negli ultimi anni impone da parte delle istituzioni un'attenzione maggiore e una velocità di intervento. Chiediamo dei fondi da destinare a quel tratto di viabilità che troppo spesso purtroppo vede accadere tragedie, quindi va migliorata sicuramente il banto stradale, va migliorata la segnaletica, l'illuminazione e tanto altro, tutto quello che si può fare per evitare che ci siano tante altre vittime come purtroppo è accaduto negli ultimi anni. La provinciale 8 del Salinello è una delle arterie a livello regionale con il maggior numero di sinistri, spesso gravi o mortali. Per questo motivo i due consiglieri hanno chiesto la convocazione di una conferenza dei capigruppo, utile ad affrontare la tematica. Dove avremo modo di discutere appunto con l'assessore competente chiedendo appunto soprattutto oltre che lo stanziamento di fondi la velocità di intervento. Quindi continueremo nei prossimi mesi e settimane a monitorare affinché ciò possa essere realizzato velocemente per evitare che accada di nuovo tutte le varie tragedie che abbiamo vissuto negli ultimi anni.